Un altro appuntamento dedicato ad Italian Show Pizza Edition è tornato su London One Radio questa sera oltre ad Alessandro Schiatti di I Love Italian Food abbiamo il campione del mondo trofeo Caputo Davide Civitiello, ciao, buonasera Ciao a tutti, ciao agli amici di London One Radio Allora Alessandro ci vuoi raccontare un po' come vi siete conosciuti tu e Davide questa sua presenza ad Italian Show l'11 ottobre è incredibile Allora non ricordo ormai quando ci siamo incrociati mille volte in mille eventi internazionali anche perché Davide gira tutto il mondo per insegnare a fare la pizza napoletana tra l'altro adesso magari nel mezzo è stato anche da un'altra parte ma so che pochi giorni fa è tornato dall'India dopo una trasferta andare a raccontare i segreti della pizza napoletana agli indiani quindi insomma Davide è veramente un'istituzione quindi ci siamo incontrati incrociati in mille eventi internazionali e quando possiamo coinvolgerlo noi siamo sempre felici di coinvolgerlo quindi abbiamo fatto questo primo evento a Londra dedicato alla pizza ci sembrava assolutamente immancabile la presenza di una istituzione della pizza in Italia È vero. Allora io riporto Davide le tue parole perché questa proprio io me la sono segnata la pizza napoletana è un'arte e come tale va rispettata ma tu quando hai iniziato a scoprire i segreti della vera pizza napoletana? Immagina Rosita che io ho iniziato molto molto presto sembra strano ma ho iniziato a nove anni immagina che fin da piccolo io giocavo in una pizzeria molto antica di Napoli dove poi ho imparato, ho fatto il mio percorso dopo la scuola quindi quando non andavo a scuola io ero in pizzeria e poi dopo le scuole medie ho deciso di dedicarmi a me e corpo e ho continuato quindi è ora a girare tutto il mondo grazie alla pizza per fortuna Per fortuna la pizza è la vera pizza quella napoletana, quella buona secondo te dipende dagli ingredienti che si scelgono oppure come si usano gli ingredienti per fare una buona pizza? Allora sicuramente i prodotti di qualità e la materia prima di qualità fanno il loro lavoro nel senso che penso che già un prodotto di qualità faccia oltre il 60% del lavoro in un piatto, in una pizza ma da non dimenticare le mani dell'artigiano quindi l'artigiano è quello fondamentalmente pizzaiolo che con le mani riesce perché poi sai fare un impasto di pizza, mettere insieme acqua, sale, levita e farina non è del tutto scontato, non è del tutto facile farlo a Napoli ma soprattutto farlo in ogni angolo del mondo è sempre più difficile quando poi riesci a replicarlo almeno per me è sempre un'emozione stupenda quindi dico sicuramente sapienza e prodotto Ottimo, allora Alessandro rivolgiamoci anche ai professionisti che sono all'ascolto che tipo di opportunità avranno tutti coloro che parteciperanno l'11 ottobre e incontreranno in questo caso Davide? Allora l'11 ottobre le opportunità per i professionisti sono ovviamente molte nel senso che abbiamo come abbiamo detto negli altri incontri c'è tutta una parte di Pizza Academy che insegnerà a fare la pizza con tre Masterclass, avremo tutta una parte di esibizioni appunto sul palco principale ci sarà l'esibizione di Davide quindi ci sarà l'opportunità per i professionisti di incontrare altri professionisti come Davide che possono portare consigli con i quali scambiarsi opinioni e portare a casa diciamo arricchire il proprio bagaglio culturale del mondo della pizza poi ovviamente all'interno dell'evento ci sono tante altre cose molto molto attrattive, molto interessanti come tutta la parte del Papa World, delle Papa Competition sia Competition Mondo Pizza che anche le Competition Mondo Pasta c'è tutta l'area dedicata alla Federazione Italiana Cuochi che porteranno appunto le loro interpretazioni della pasta e poi non ultima ci sono i produttori italiani di filiera quindi ci sono realtà italiani di filiera come Molino Caputo con cui Davide collabora ma tanti altri la Teresa Sorrentina avremo cantine che faranno appunto Masterclass di vino con il cupering del cibo e della pizza quindi insomma anche perché anche lì insomma sarebbe da sfatare un po' il mito di birra e pizza quindi la pizza sarebbe meglio mangiarla accompagnata da delle buone bollicine piuttosto che da una birra Ecco questo è interessante Alessandro infatti lo chiedo anche a Davide secondo te come abbinare la pizza? Cosa possiamo bere vicino ad una pizza? Sempre la birra o c'è qualcos'altro? Guarda io sono d'accordissimo con Alessandro soprattutto nel mio locale che abbiamo aperto qui a Napoli in Piazza dei Martiri abbiamo fatto una bellissima area bar dove spesso associamo una buona bollicina alle pizze non solo a volte dei cocktail pensati ad hoc e non solo la birra perché poi comunque poi c'è chi beve la birra con la pizza la contendiamo sempre però è chiaro che una buona bollicina secondo me soddisfa di più Ascolta Davide per tutti coloro che vogliono portare il Made in Italy all'estero sappiamo che diciamo gli italiani sanno benissimo che i prodotti italiani che ci sono qui poi non sono poi ecco così autentici nel senso ci sono quelli autentici conosciamo tantissimi brand però non hanno diciamo lo stesso sapore questi sono un po' i commenti che noi riceviamo dai nostri ascoltatori preferisco mangiare la pizza a Napoli e non a Londra però ecco un suggerimento che vorresti dare a tutti questi ristoratori i pizzaioli che hanno un business qui a Londra per fare una buona pizza e farli sentire a casa Allora ormai io vengo a Londra spestissimo quasi Londra è una delle mie seconde città quindi ti dico che anche a Londra c'è la possibilità di poter fare una buona pizza con prodotti italiani oramai i prodotti italiani se ne trovano anche di qualità sicuramente di rispettare le materie prime di acquistare le materie prime buone e di far apprezzare di raccontare soprattutto a chi le mangia agli inglesi quello che stanno mangiando che spesso un pomodoro viene viene pensato come pomodoro ma in realtà noi abbiamo dei pomodori buonissimi della mozzarella buonissima delle cose stupende non capisco perché poi usano un prodotto tarocco e chiamarlo mozzarella o pomodoro quindi meglio comprare un prodotto buono farlo pagare un attimino in più raccontarci anche una storia così magari poi sai l'apprezzano di più quindi questo è un evento da non perdere mi rivolgo soprattutto a voi professionisti che potete partecipare Alessandro come possono partecipare infatti c'è un link possono registrarsi sì allora c'è un link che tra l'altro avete anche pubblicato voi all'interno del vostro sito non domo a radio dove cliccando o andando sul nostro sito Love Italian Food o andando insomma sui nostri social c'è tutta una promozione di questo di questo evento quindi attraverso questo link che si possono registrare e venire l'11 di ottobre speriamo siano tanti anche perché io ricordo sempre che i professionisti i restauratori gli chef i pizzaioli sono i primi ambasciatori della nostra cucina all'estero sono loro che vogliono fare gli autentici prodotti io ho fatto una domanda molto interessante a Davide dicevi la vera pizza ha un sapore diverso in realtà dipende chi la fa io ho mangiato una delle pizze napoletane più buone a Tokyo per dire da Pepe Richiello quindi è chiaro che se tu come diceva Davide ci metti dei prodotti autentici quindi la mozzarella buona il pomodoro giusto e sai lavorare l'impasto nel modo corretto con la giusta levitazione alla fine il prodotto è un prodotto meraviglioso che puoi trovare a Napoli come puoi trovare a Londra come puoi trovare a New York quindi questo è l'importante è educare i professionisti a fare l'autentica pizza seguendo delle regole semplici che sono fare l'impasto nel modo corretto e acquistare le materie prime di qualità italiane questo è facile quindi se vengono l'undici avremo modo di parlare di questo infatti non anticipiamo altro perché devono scoprirlo poi durante tutto l'evento che inizia alle ore undici o dieci se non sbaglio fino alle diciannove esatto alle dieci fino alle diciannove quindi preparatevi e venite numerosi grazie Davide e Alessandro per essere stati qui con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi